Dal reparto di urologia dell'ospedale San Donato alla cosiddetta Venezia d'Orente, Sujo. Protagonista del viaggio uno degli storici urologi della ASLotto, Giorgio Paoletti, che è stato chiamato in Cina per tenere una serie di lezioni sull'ecografia urologica e sull'incontinenza. Il dottor Paoletti partirà alla fine del mese e si tratterrà alcuni giorni presso il grande Ateneo cinese. Sono molto orgoglioso e anche gravato da molta responsabilità, in quanto rappresentare l'ospedale San Donato e la Rezzo in generale in questa prestigiosissima università cinese di Sujo, la Venezia d'Oriente a sud di Pechino e 30 minuti da Shanghai, per me è un motivo di grande soddisfazione professionale. Fa parte di uno scambio accademico, sono già venuti due anni fa alcuni colleghi urologi ed ecografisti, in quanto hanno individuato nell'urologia in me in particolare come un punto di riferimento per sviluppare le nuove tecniche di diagnostica ecografica interventistica. Una serie di lezioni, pertanto terrò, parlando anche della nuova apparecchiatura che stiamo per ricevere in dono, un ecografo che ci darà la possibilità di fare una diagnosi mirata del carcinoma della prostata, per cui diventeremo ancora di più leader nazionale nello studio e nella terapia di questa malattia. Ovviamente sarà occasione di promuovere anche la città, il sindaco Ginelli e l'assessore Comanducci mi hanno chiesto di far vedere il filmato Arezzo Grazie Mille che promuoverà la città in quanto i colleghi quest'altro anno dovrebbero ricambiare ancora una volta lo scambio accademico e venire qui ad Arezzo all'ospedale San Donato. Siamo sempre all'avanguardia nelle nuove metodiche e il fatto che siamo scelti noi come anche piccolo centro, se vuole, perché Arezzo è una città di provincia, ovviamente questo è un motivo di grande orgoglio.